Ciao a tutti io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Diablo 4 Stavamo andando a fare la missione dell'ottiene il diario di un archivista Nel mentre ci facciamo anche la spedizione se è dentro credo di sì Non sarebbe male Facciamo segui Archivista 1, 2, 3 Non possiamo ancora prendere il cavallo Cavalcatura a favore di Donan Prima o poi riusciremo a sbloccarlo Ora siamo quasi al 23 Sicuramente eliminando questi facciamo anche livello Infatti Ora Ma con puntabilità per sbloccare queste Io direi la... il calpestamento Non è male Cosa mi dà... 3 Un solo potenziamento Dopo questo però 150 danni aggiuntivi Il danno si riduce al 50% però... Va bene Per ora facciamo così E' male Le skill dell'orso in realtà sono molto forti Per fare attacchi ad aria Perché mi sta sparando a cose Mal detto Ok Possiamo proseguire Mi sa che avrei dovuto potenziare Il rovo Ok Qua c'è un evento Entriamo Ok Dobbiamo rifare tutto da capo Mi piace ancora questa mossa Attenzione Balestra pesante Che non possiamo usare ovviamente BAM Ok Ci fogliamo Infeggi danni Periodici E nemici No E' vero quello che dico Un angelo cammina a fagli uova Ok I cavalieri marciano verso Eccolo qua Fermi tooo te Abbiamo ricevuto l'ordine La nostra compagnia E' stata chiamata in missione Per la luce So che non faremo ritorno Come tutti gli altri Chiamati a servire Abbiamo già dato tutto Alla chiesa Dobbiamo dare anche la vita Credo di sì Ok Qua facciamo il giro Alla chiesa Qua facciamo il giro Ciputi Perché mi sta andando balestre Basta Totem minore Che non è più forte del mio Ovviamente Sicuramente il diario numero uno Sarà dall'altra parte Bellina questa cosa Che hanno unito Le missioni secondarie Ai dungeon Aia Eccolo qua infatti Ci sono dimostrate forti Ce n'è una che mi piace molto Cim La cavaliera Soliana Coste La sua devozione La tele Non renderebbe il minimo dubbio Dalla mente di chiunque Non lei è facile Parlare di chi ho abbandonato Per il richiamo della luce Anche lei ha dovuto lasciare la famiglia Attenzione Anche lei ha dovuto lasciare la famiglia Ok Che cosa sta bloccando Maledetto Chiava della sentinella Basta palestre Di qua lo completiamo? Sì Super combo No stavo guardando la mia vita Per fortuna che me la sono accorta Ok Molto comodo Ok Ok Oto tu Ahahahah Potete morire davanti Aiaia Fermi Ok 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 Va bene Almeno un avventuriero Merda Merda Una morta Niente Non li ho comunque aiutati Un randello extra Un randello figo mi hanno troppato Ma non sembra Ma non sembra Ha fatto rumore Peccato Clava dentata Vediamo E' lo stesso randello Peccato Peccato E' lo stesso randello E' lo stesso randello Facciamo comunque Facciamo comunque attenzione A chest Perché molte non sono visibili Possiamo esplorare abbastanza con calma Tanto non ci stanziamo da nessuno Forziere Ah E' male C'è il vampiresco Lì Che rovi E' andata Caparci Ok Non è andato E' dove sono andati Questa cosa mi fa? Gli amici le lascia un'ora quando vengono colpiti E' faccio così Mi stanno facendo male No Devo usarla però Ok Abbiamo quasi fatto un livello C'è il livello Che va 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 Oddio Questi con la salute aumentata Che fanno malissimo Oh no No mi ha succhiato il sangue Maledetto Mago del sangue Io li eliminerei Ancora I pistole vampiri Non possono farci niente Uff Non male Vediamo Male Bam Un paio di ammazzo Questa con la salute aumentata Sono del pali in culo Ok C'è una festa Questa è un livello In verità Magia naturale Infilchiamo il 4% Di donna aggiuntiva E nemici elite Eh ma non ha senso Perché appena mi ritrasformo il vampiro Questo è bello Dato che abbiamo tutte e due le forme Non è male Ok Ed ecco il terzo diario Ho cercato di convincere Ho cercato di convincere Soliano Ad andarsene con lei E ho detto che suo figlio Avrebbe preferito avere una madre E che avremmo ricominciato Via da questa landa gelida Si è rifiutata Non avrebbe avvalutato la luce E l'idea di un mondo migliore Per suo figlio Ancora un po' di spazio Devo assolutamente finire con questo dungeon E' stato pericoloso Ok Ok un po' sprecata Ma va bene Siamo arrivati Sicuramente ci muore Ok Perfetto Bene Potevo aspettare Devi farmi ricaricare La ricaricare l'abilità E invece no Perfetto Siamo arrivati alla fine del dungeon Vediamo cosa ci aspetta Sala di guerra Della luce Aio Madre della Tana E non gliene frega niente Questa è pericolosa Questa è pericolosa E non gliene frega niente No! No! Vabbè, l'atto! Ello! no no maledetto posto questo dungeon mi hai mai fatto una sberla attenzione no devi spostarti no 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 ok l'ho stordito per farci devi capo dalla congrega direi che c'è andata molto bene abbandona la spedizione abbiamo fatto un dungeon e una missione ma io tornerei in città non posso potete l'asportare per favore grazie bene eccoci qua ho trovato questi diari figurati adesso dobbiamo decidere cosa fare la prima cosa che devi fare è andare dalla guaritrice oh yes ora vediamo questa cosa che ci hanno droppato è il moto destrezza e forza tutte le caratteristiche più sei non so cosa è il riciclaggio un cristallo uno ok va bene ora che missione dobbiamo fare secondarie non ne abbiamo più a questo punto se non ce ne sono segnate e non sembra andiamo qua come abbiamo detto a fare la principale così proseguiamo un pochino entra nella guarigione dei cavalieri buongiorno capitano anchers posso aiutarti? non lo so domanda brava sto cercando Vigo tu e quella petulante ragazzina è tutta la settimana che ci assilla parlando di una donna demone beh si è Lilith Vigo è partito per indagare sulle sue affermazioni dovrebbe trovarsi alla miniera a nord ok la scorsa settimana è scomparsa l'intera scorta dei cavalieri assieme alla madre della ragazza e un'altra donna attenzione là fuori rassicurante aggiungi la miniera con le pini quindi dato che ci siamo ci prendiamo anche tutte le secondarie che ci sono o lesia che tipo di servizi fornisci? costante di diciamo esemplari per il clero qui vicino tuttavia la loro sete di conoscenze è diventata più pericolosa da soddisfare eccola ti serve mi serve un gran numero di cuori di goli intatti puoi trovarli da queste parti va bene mentre che andiamo a fare l'altra missione principale si rianimano si rianimano anche solo con poche gocce di sangue mi avventurerei a recuperarli personalmente ma sono più abituata a trattare coi morti veri e propri certo comprensibile va benissimo si è scollagato il controller eccoci qua fabbro devo forgiarti qualcosa? in realtà no vai ok l'armatura al massimo questo invece cosa fa? ferro del proposito è il moraro quanto me la fa? 100.000 no ancora troppo per le mie tasche senti non ho chiesto io questo incarico ma finché sono qui voglio guadagnarci qualcosa non temere pagherò le mie tasse peccato c'è un bel po' alla prossima vedete si è random mazza rara non è granché vero? alla prossima eh no vabbè sono forti la cosa che ci stai dando eh sono partito da Ielesna per il mio pellegrinaggio ho reso grazie a un santuario lungo la strada e ho ricevuto una benedizione per il mio viaggio lasciami in pace non sono in servizio sto solo cercando di divertirmi per una volta ok scusami tutti gli oggetti anche questo questo invece qualcosa sembra atturbarti va bene attenzione il portale cittadino per l'eterno si lo so ok droppano cos'è per l'armatura niente di che anche venti 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 a venti venti voce i Ok Ancora devo abituarmi Bene Mi avete Cristina a trovare il suo marito Feodor E infatti tu saresti morta qui Che brutto rumore Ok E' stato bene a prendere la corda d'area Vediamo Qua Quindi il dungeonino C'è una drappata Armatura Non male Un grado a uragano mi ha dato Dobbiamo un po' starlo Eccomi qua Ma non è male Qua deve andare Eccomi qua Tunica resistente 40 di armatura Bene Qua Cosa c'è Brisco antico Ispeziona Cosa c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, yes. Thank you. Ok, mi dà PDPS. Questa scenda c'è no. Ok. La maggior parte dell'incisione si è presa nel tempo, accogli morte braccia aperte. Boh. Oh. Mi serve qualche mod che non ho ancora, forse? Totem narra sogni. Bellino. Ma non abbastanza. Vediamo se riusciamo a trovare il marito. Spero che non sia qui, ecco. Ehi, 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 ehi. Questa cosa bravi. Ok. Questa è il tuo marito. Non mi piace questa cosa che sta succedendo. Edor. Edor. Cos'è successo? Perché è scavata quella? No. 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 Ne vuole ancora? È tipo una succuba lei. Ma per te che sarebbe impossibile che sia vivo. Ancora? Ancora? Per favore, va a cercare la donna che gli ha fatto questo. Va bene. Ciao. Non mi sorprende che Feodor fosse attratto da me, ma io lo so. Ciò che desiderava? La sua insignificante anima è stata dilaniata tra estasi e agonia, ma la sua carne è inflessibile. Ok. Rivelati a noi. Giulia. Vale. Male. Dolore. La donna era un demole. Ci ho pensato io. Una ricompensa che vuoi. Prendi il pugnale dal suo petto e vattene. Ben peggio. Vabbè. Grazie. Muore? Un bel modo per ringraziarmi, eh? Come se fosse colpa mia. Mariscimi. I cavaliari vorrebbero insegnarci qualche trucco che potrebbe tornarci utile. Bravi. Lavoro eccellente, amico. Di recente il clero non vuole altro che cuori di gula. Non mi sorprende in realtà. Comprendere il tuo nemico è il primo passo per sconfiggerlo. Cosa mi dai? Cosa di erbe. Meh. Il padre ti benedica. Che ti serve? Il padre ti benedica. Che ti serve? Ok. Che il padre ti conservi. Potenziamo? Non me l'aspettavo. Ok. Ora. Raggiungi la miniera a colle dei pini. E mentre che la raggiungiamo facciamo anche l'altra missione. Oh. 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 Ringraziamenti al santuario. Ti sono grato. Ok. Easy money. Qua c'è qua. Adesso qualche avvento. Ok. Eccoci qua. Parla con Vigo. Altri? Perché chi è che c'è al drama? Vediamo un pochino cosa ci dice. Tu sei Vigo? Sono qui per... Hey! So quello che ho visto. Aveva le corna come una bestia. È passata proprio da qui. Se penso che mia madre è intrappolata lì con lei. Voi l'avete fatta passare. Non dovreste provvedere alla sua sicurezza. Abbiamo dei soldati all'interno che... Dovreste preoccuparvi anche per loro. Forse puoi aiutarmi tu. Dipende. Vediamo. Interagisci. Cosa ti porta Yelejna? Io e mia madre studiamo Yoradrim. Avevamo scoperto qualcosa di grosso. Ma... Poi è fuggita. Non è da lei abbandonare la caccia. Perchè queste miniere sono sigillate? La miniera è chiusa per ordine della chiesa. Non è sicura. Specialmente per i bambini. Vabbè, magari viene con me. La proteggo io. Mi manda la reverenda madre. Brava. Davvero? Sì? La donna con le corna è il demone Lilith. No. Non può essere. Mia madre mia ha il nome. Parli della figlia dell'odio. Brava mi ha menzionato. Non era arrabbiata, vero? Qui c'è in gioco molto più del tuo lavoro. Su, andiamo. Venite entrambi, com'è? Apri, apri. Qui c'è altra roba. Ovviamente. Quello con lo scudo. Ora è mio. Me l'ha dato quando ho permesso a lei e alla sua amica di passare. Fatemi un attimo, eh. Potenziamo i rovi. Sì. Non va male. Almeno l'oro mi aiutano. Qua? Vabbè. Non proseguiamo in zone strane. Cancello sigillato con Vigo. Cosa fai? Lo apri? Resta vicino. Un'ascia così. Forse dovremmo tornare. Non seguo Lilith a Venard? Per lasciare mia madre in mano a Lilith per il tempo necessario. No. Io proseguo. Anche io. Sono d'accordo. Ci portiamo a buon punto e poi ci salutiamo. No. Io prendiamo la guerra. Nei fai 등i. Mi farmo anche un'atta Editora. Non ci troviamo le gravidi. Occhi. Anche l'ho noi. No. Oh... Ti sentiamo riflettere. Mi farmo perfettare lui. no 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 e facciamo attenzione ok paraggioso però non ci tira indietro speriamo di andare nella direzione giusta evoke inferno no tu devi crepare immediatamente anche ok stavano nuovi e da un po' che non li cambiamo forza più 13 caratteristiche 4 era livello 10 li avevano trovati abbastanza tempo fa boh chissà cosa ha di speciale questo posto comunque cosa potrebbe attirare l'elite qui e io che diavolo ne so effetti nessuno esce nessuno entra tutto qui mmm niente montacarichi il blocco deve essere più giù va bene ispezione alla porta ok ragazzi noi ci salutiamo come sempre grazie per aver visto il video ci vediamo al prossimo sempre qua sul mio canale ciao a tutti ciao a tutti